Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che trovate su Tumblr mi raccomando visitatelo, troverete il link qui sotto come anche il link a tutti i miei social perché lì potrete trovare tutte le recensioni dei libri che ho letto quindi veramente se state cercando qualcosa da leggere potete trovare qualcosa su tutti i generi e su tutti i gusti veramente oggi torniamo a una lista di libri per argomento è stata chiesta una lista di romance storici con sorelle ora, parliamoci chiaro allora, è un po' troppo generico come tema perché? perché veramente di serie romance o libri singoli romance storici con sorelle ce ne sono milioni perché migliaia mi sembra riduttivo dico proprio milioni perché sono veramente tanti 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 le serie che parlano di fratelli e sorelle indipendentemente ne ho in parte già parlato quando ho fatto un video sui libri che potrebbero piacere a chi ha amato la serie Bridgerton e se vi devo citare anche in questo video ad esempio una serie su una famiglia quindi su dei fratelli e delle sorelle che mi è piaciuta molto sicuramente è la serie Bedouin di Mary Balboa che è la prima che mi viene in mente di suggerirvi ma ce ne sono veramente 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 tante perciò per questo video ho deciso di restringere molto il campo e di limitarvi a serie dove ci sono solo sorelle femmine o quasi nella lista ce n'è una con un fratellastro ma non vale che non è il loro vero fratello e serie che io ho letto personalmente e che mi sono piaciute personalmente perché dovevo restringere il campo cioè veramente che se no erano troppe quindi sarà una lista contenuta ma se vi interessa avere dei romance con sorelle veramente ce n'è tantissimissimi e per tutti i gusti ambientati in qualsiasi epoca quindi veramente avrete tantissima scelta questa lista è un primo diciamo suggerimento ma partiamo subito allora la prima serie di sorelle che voglio consigliarvi è la serie Mary Dio di Anne Gracie allora vi ho già parlato di Anne Gracie è una delle autrici romance che a me piace e che tende anche ad essere abbastanza ironica e la serie delle Mary Dio Sisters è disponibile in italiano e vi lascerò i link qui sotto nell'info box quindi se vorrete acquistarla mi raccomando fatelo cliccando sui link qui sotto nel box informazioni o andando sul mio blog l'arte dello scrivere forse e cliccando sul link che metterò nel post così aiuterete questo blog perché è un blog affiliato la serie Mary Dio è composta dai libri Irresistibile Libertino L'adorabile Tenebroso L'adorabile Sconosciuto e Il bacio perfetto quindi sono quattro libri la serie narra le vicende come vi dicevo di quattro sorelle Prudence, la maggiore Grace e poi le due gemelle Hope e Faith e qui veramente l'amore tra le sorelle è palesato più e più volte soprattutto nel primo libro perché veramente senti proprio l'affetto che hanno l'una per l'altra cosa molto rara comunque anche nei libri romance invece qui il senso della famiglia il senso del volersi prendere cura l'una dell'altra è molto molto presente in tutti i libri ma come vi dicevo soprattutto nel primo che è anche il mio preferito che è quello che parla della sorella maggiore che si deve prendere cura delle sorelle minori tra l'altro queste povere sorelle dopo essere rimaste affane sono finite sotto le cure del nonno che però è un tiranno che picchia tra l'altro anche le sorelle più piccole di Prudence che pensa che Prudence sia una figlia del diavolo semplicemente perché ha i capelli rossi veramente le tratta malissimo e quindi Prudence decide di finirla una volta per tutte perché non permetterà mai più al nonno di mettere le mani sulle sue sorelle e fugge con loro allora fugge con loro e però ha bisogno di qualcuno che le protegga perché le donne a quell'epoca non è che avessero molta libertà le serve qualcuno che possa mettersi contro il loro nonno e va da uno zio uno zio un po' sui generis un po' diciamo diciamo uno spirito libero un po' svagato quindi che non ha ben presente la situazione familiare delle sorelle e quindi lei può mentirgli in modo che lui si prenda cura di loro e le ospiti a casa sua però è logico nelle bugie che gli deve dire in modo che lui non tenti di proteggerle dal nonno combinando un matrimonio per Prudence che ne ha già avuto abbastanza di uomini nella sua vita sinceramente visto il trattamento che ha avuto dal nonno mente e dice di essere già promessa a un duca che però è sempre all'estero quindi pensa che questa bugia bianca non le darà problemi ma una serie di circostanze insomma legate a questa bugia faranno in modo che lei finisca per fidanzarsi con il cugino di questo duca con cui lei aveva inventato di essere fidanzata quindi c'era una serie di malintesi lei insomma finirà col dover frequentare questo cugino del duca che si dice sia un libertino ma in realtà poi non è così una cattiva persona quando scopre la situazione di Prudence scopre la situazione delle sue sorelle e quindi in quanto Prudence sia una donna non solo bella ma anche buona e generosa e altruista eccetera eccetera comunque se ne innamorerà adesso questo è un riassunto veramente riduttivo del libro che comunque ha anche molti lati ironici già lo zio delle sorelle ve lo dico è un personaggio ma poi ci saranno altre cose molto carine è un po' avventuroso soprattutto nella prima parte da fumo tutte le cose c'è un po' di trama che tenta di essere complicata ma non lo è con le bugie dopo tutto si risolve in un romantico idilio tra i due che all'inizio non si piacciono ma dopo si piaceranno molto e una volta che Prudence comunque sposerà il suo amato tutto si risolverà per le sorelle perché sarà in grado di prendersi cura come si deve delle sorelle e non avrà più bisogno di qualcuno che la protegga dal nonno perché ci penserà a suo marito quindi veramente una soluzione ad hoc e dopo nei tre libri successivi le tre sorelle troveranno l'amore ognuna in ogni libro ma sicuramente il libro che mi piace di questa serie è il primo altra serie che vi suggerisco di leggere su delle sorelle è la serie Sorelle Duncan di Jane Feather anche Jane Feather è una delle mie autrici preferite e una delle autrici abbastanza ironiche del genere romance e questa qui è una trilogia stavolta centrata su tre sorelle molto indipendenti e convinte che gli uomini e le donne dovrebbero avere l'eguaglianza peccato che vivono nell'Inghilterra d'inizio novecento quando sì il movimento delle suffragette cominciava a prendere forma affinché le donne potessero votare ma era una lotta ancora all'ultimo sangue e che si andava a scontrare sul maschilismo imperante della società quindi queste tre donne così avanti non erano molto ben viste a quell'epoca in più per mantenersi per essere indipendenti le tre hanno una specie di non voglio proprio dire un'agenzia matrimoniale comunque aiutano le donne a trovare il marito giusto in modo da investigano sui futuri mariti o i futuri fidanzati delle donne che vanno da loro a chiedere consigli in modo che scoprano prima se lui beve scommette a un amante insomma in modo da essere preparate e in più la maggiore di queste tre sorelle e la protagonista del primo libro Constance è anche una scrittrice abbastanza popolare che scrive su un noto giornale una rubrica per i cuori solitari e diciamo che in questa colonna a volte però si trova a dire delle cose un po' troppo moderne per l'epoca una cosa tira l'altra e succederà che incontrerà un nobile politico cioè che ha anche delle ambizioni politiche e ci sarà un'attrazione tra questi due però lui appunto ha delle ambizioni politiche abbastanza conservatore abbastanza maschilista e così e quindi i due cozzeranno moltissimo tra di loro ma in realtà anche in parte perché sono attratti l'uno dall'altro quindi c'è un po' di battibecco molti dialoghi interessanti poi questo fatto che lui ad un certo punto si scopre che non è poi così maschilista come può sembrare cioè non ha un'idea della donna così bassa anzi vuole bene a sua sorella a sua madre insomma non è proprio becero come sembrava all'inizio ma è diciamo proprio il fatto che non vuole essere visto in un certo modo dalla Londra bene perché ha delle ambizioni politiche quindi la loro lotta di classe la loro lotta tra uomo e donna in realtà non è una lotta che nasce almeno dal punto di vista di lui da una forte convinzione propria ma è più legata alle apparenze che vuole mantenere nella società dell'epoca quindi quando Constance capirà che in realtà è un bravo uomo e tutto il resto capirà le sue buone qualità sarà disposta anche lei a retrocedere un pochino sulle sue posizioni pur di incontrarsi a metà però diciamo che alla fine tutto si risolverà per il meglio e lei non dovrà poi tornare così indietro sulle proprie idee sarà lui a cambiare per lei soprattutto e una volta che loro due si conosceranno ci sarà anche il fatto che anche le sue sorelle conosceranno degli uomini degli amici di lui della cerchia di lui quindi ci saranno altre due storie d'amore collegate con le sue due sorelle negli altri due libri della serie i libri della serie sono Un uomo da domare La legge dell'amore e Sharada di nozze e anche in questo caso se non mi ricordo male il mio libro preferito era il primo però è un po' che non li rilego però se non mi ricordo male mi era piaciuto molto anche il secondo forse addirittura più del primo perché il primo è veramente veramente molto concentrato su questa lotta tra lui e lei che dura veramente per tutto il libro mentre nel secondo la roba un pochino si addolcisce sia lui che lei sono meno politicamente coinvolti quindi la roba è un po' più romantica se non mi ricordo male altra serie che vi consiglio di leggere sempre di Anne Gressy come quella che vi ho citato prima è la serie delle Chains Chance Sisters delle sorelle Chains delle sorelle Chance questa è composta da quattro libri e allora diciamo che il punto di partenza ha delle similitudini con la serie Mary Duh però allo stesso modo no abbiamo sempre delle sorelle però in questo caso due e una sorella maggiore che deve prendersi cura della sorella minore perché sono rimaste orfane in più si deve prendere cura anche di due care amiche che anche loro si sono trovate orfane e sono praticamente sull'orlo di morire di fame allora per mantenere questa sorella e queste due amiche la sorella maggiore Abigail è riuscita a ottenere un posto di governante e con la sua paga tenta di sfamare quattro bocche ma in realtà è molto difficile in più lei ha anche un certo tipo di carattere poi il fatto di essere una governante quindi una sottoposta in una casa nobile la la mette anche in una brutta posizione di essere diciamo preda del padrone di casa e quindi le tocca abbandonare il suo lavoro e quindi rischiano tutti e quattro di morire di fame sono talmente messe male che presa dalla disperazione e pur di sfamare la sorella e le altre due ragazze più giovani che dipendono da lei Abigail arriva a introdursi in un palazzo che sembra disabitato per svaliggiarlo qui però trova un'anziana signora confinata a letto e trascurata da chi dovrebbe occuparsi di lei quindi sconvolta Abby scazza i servitori e con l'approvazione dell'anziana signora quindi della padrona di casa si trasferisce da lei con le altre con sua sorella e con le altre due ragazze che vengono introdotte in società dalla gentildonna come suoi nipoti quindi tutto sembra che si sia risolto a meraviglia perché la lady finalmente ha qualcuno che si prende cura di lei veramente con affetto eccetera e le ragazze finalmente hanno un tetto sopra la testa e da mangiare e anzi vengono addirittura introdotte in società quindi Abigail spera in un futuro radioso per sua sorella e le sue due amiche barra praticamente per lei sono quasi delle altre sorelle ma purtroppo il nipote della nobile donna torna dopo anni passati all'estero scopre queste impostore a casa della della zia e chiede delle spiegazioni perché lui sa che non sono suoi parenti allora la zia e Abigail gli spiegano quello che è successo ma lui non ci crede crede che Abigail sia un'approfittatrice che si sta prendendo gioco della sua parente perché è ricca e la vuole sfruttare allora decide però di stare al gioco fingere di crederle di stabilirsi lì o comunque di frequentare la casa della parente in modo da tenere d'occhio a Abigail e però pian pianino scopre i lati positivi di Abigail che lei quanto vuole bene alle sorelle quanto è disposta a fare per loro e poco a poco quindi si instaurerà un'attrazione tra i due e nascerà una storia d'amore questo libro sicuramente ma diciamo un po' tutta la serie ma soprattutto questo libro ha anche dei colpi di scena un po' di azione e anche delle scene ironiche forse un po' meno ironico di quello delle sorelle Mary però insomma comunque è molto molto carino è uno dei miei romance preferiti quindi ve lo consiglio ma vi consiglio tutta la serie perché come vi dicevo in ogni libro una delle sorelle in questo caso diciamo non sono delle vere sorelle due ma è come se lo fossero trova l'amore e in una stagione diversa in realtà diciamo che c'è una c'è abbastanza differenza di età tra Abigail sua sorella e le altre due ragazze quindi in realtà passeranno degli anni tra un libro e l'altro ma è interessante vedere come l'autrice abbia scelto di ambientare in autunno il primo libro in inverno il secondo libro in primavera il terzo libro e in estate il quarto libro non un'idea originalissima perché si trova questo schema questo schema anche in altre serie di altre autrice romans però è carino e io come vi dicevo Anne Gracie è un'autrice che consiglio e questo veramente è un altro libro dove l'affetto tra le sorelle è molto ricalcato e molto centrale alla trama soprattutto la trama del primo libro dove è la sorella maggiore quella con lo spirito più materno la protagonista un'altra serie con protagoniste delle sorelle è la serie Banning Sisters di Karen Roberts Karen Roberts è un'autrice di cui forse non vi ho parlato tantissimo ma è un'autrice storica di romans e anche di romans contemporanei non solo storici e per me è un po' un si direbbe in inglese un hit and miss ci sono dei suoi libri che mi piacciono e dei suoi libri che non mi piacciono in linea di massima io la trovo un pochino datata lo so che non è non è la parola giusta perché leggo volentieri delle autrice molto più vecchie di lei quindi non dovrei dire questo ma non lo so il suo stile a volte non mi non mi convince forse mi convince un tantino di più a volte sui romans contemporanei ma anche lì anche se si sforza di essere più innovativa più contemporanea appunto più nuova in realtà l'impianto dei suoi libri tende a essere molto molto anche qui è una parola che non è giusta arcaico cioè classico ecco io non la trovo abbastanza per i miei gusti non riesce abbastanza a uscire un pochino dalla forma classica di un romance o di un romantico sospenso è troppo incanalata in questi in queste figure classiche e quindi i suoi personaggi a volte a me risultano un po' prevedibili però questa è un'impressione che fa a me personalmente è un mio giudizio soggettivo Karen Roberts Karen Roberts rimane comunque un'autrice veramente molto famosa che ha molti molti fan e che ha venduto tantissimi libri anche best seller quindi chi sono io per giudicare nessuno però vi dico per il mio gusto ho apprezzato alcuni suoi libri soprattutto dei romanti sospens però se anche mi sono piaciuti molto alcuni però mi sono piaciuti con la remola che secondo me hanno un po' risentono un pochino dei loro anni alcuni e anche quelli contemporanei sembrano più vecchi non sembrano scritti oggi non riflettono il gusto contemporaneo dei lettori contemporanei secondo me ma anche qui vi ripeto io non sono poi così contemporanea perché non sono certo una millennial quindi diciamo che è un giudizio che lascia il tempo che trova comunque come vi dicevo Karen Roberts ha scritto anche dei roman storici e questa serie appunto sulle sorelle abbiamo tre libri è una trilogia e i tre libri sono tre sorelle un destino folle tentazione e disinvolta passione la protagonista del primo libro è come al solito è una trama che si ripete avrete notato la sorella maggiore che ha preso alla morte del fratellastro che era un duca che è morto nella sua piantagione a Silon si chiede che fine faranno lei e le sue due sorelle più piccole ora che tutti i beni passeranno per discendenza a un lontano cugino che fine faranno loro come faranno a sopravvivere però fatto vuole che si presenti da loro qualcuno che si spaccia per il loro fratellastro ora parte il fatto che Gabriella sa che il fratellastro è morto perché gli è arrivata una lettera credo non mi ricordo l'ho letto tantissimi anni fa lei lo sa che è morto quindi lo sa che questo qui non può essere lui anche se lei ha visto il suo fratellastro solo tantissimi anni prima quindi si chiede chi sia quest'uomo che finge di essere lui in realtà questo qui è un conte se non mi ricordo male che fa finta di essere il suo migliore amico per indagare appunto sulla morte del suo migliore amico Gabby che è una persona abbastanza diretta gli dice subito ma tu chi sei il mio fratellastro è morto quindi so che non sei tu lui le rivela i suoi piani lei rivela lui che vuole trovare il modo per far sì che il loro lontano cugino non erediti quindi comunque fa comodo anche a lei far finta che il fratellastro non sia morto quindi si coprono le spalle l'un l'altro e anzi Gabby aiuta anche Marcus nella sua indagine il problema qual è? il problema è che i due sono attratti l'uno dall'altro quindi comunque davanti alla gente non devono sembrare troppo intimi o troppo vicini perché in realtà lui posa come il suo fratellastro e sarebbe uno scandalo se la verità venisse a galla questo libro come vedete ha un impianto molto classico di Sharade cioè lei che finge qualcosa lui che ne finge un'altra tra i due le due finzioni si incrociano e insieme c'è anche da indagare su un delitto presunto e quindi vedete come alla fine il fatto che lei debba prendersi cura debba trovare il modo di mantenere le sorelle è secondario in questo tipo di trama non è secondario al massimo perché comunque è ciò che fa agire Gabriella come agisce però non è approfondito come nelle altre serie che vi ho detto è anche l'affetto tra le sorelle si vede ma non è al centro del libro cioè non è non è centrale centrale qui è proprio neanche l'innamoramento tra il protagonista maschile e la protagonista femminile ma proprio tutto l'intreccio della trama che prende quasi il sopravvento sui personaggi altra serie dedicata a delle sorelle è la serie Madison Sisters di Lindsay Sands io ho cercato di vedere se fosse stata tradotta in italiano e non ho trovato una sua traduzione non so se magari anni fa è stata tradotta e pubblicata in italiano se così fosse segnalatemelo così potrò aggiornare il post si tratta di una trilogia quindi che io suppongo sia inedita in italiano di Lindsay Sands che è un'autrice che a me piace molto e che ha molta ironia sia quando scrive di paranormal sia quando scrive romanzi storici ed è formata da tre libri questa trilogia The Contest di Iris di Usman Hunt allora di questa trilogia ancora una volta il più bello è il primo libro so che mi ripeto ma è sempre così perché è sempre la maggiore delle sorelle la protagonista del primo libro e di solito è anche il personaggio femminile più bello della serie in questo caso quello che è bello è anche la trama che è molto spassosa come sempre Lindsay Sands al contrario di Karen Roberts Roberts riesce a uscire dai soliti schemi qui abbiamo una giovane vedova che non vuole far sapere di essere rimasta vedova è felice che suo marito sia morto perché è morto con un incidente lei non ha niente a che fare è felice che sia morto perché il loro non era un matrimonio d'amore anzi lei lo odiava per come la trattava però non vuole far sapere di essere di essere vedova perché le creerebbe dei problemi cioè avrebbe magari delle male lingue che la guarderebbero storto magari qualcuno si farebbe avanti per corteggiarla magari dovrebbe tenere il lutto per un anno e mezzo non mi ricordo invece lei vuole approfittare dell'occasione di essere finalmente una donna libera per sponsorizzare le sorelle in una stagione quindi finge che il marito sia vivo e mette il cadavere sotto ghiaccio stiamo parlando di un roman storico ok ok poi in questa trama c'è anche uno scambio di identità tra gemelli e rocamboleschi piani destinati a fallire quindi veramente c'è di tutto in questa trama anche il protagonista maschile che si scambia col fratello anche lui ha delle idee balzane che mette in atto insomma poi i due si incontrano veramente un libro carino anche qui direi perché il fatto che la protagonista sia una sorella è un tantino secondario alla trama cioè è importante perché mette in parte in moto il libro però non è centrale non è centrale è centrale anche qui la trama e l'intreccio però i personaggi sono molto più simpatici la trama è molto più tra virgolette inverosimile ma acchiappa mentre purtroppo il secondo e il terzo libro sono meno belli il terzo libro perché è un impianto molto più classico e il secondo libro perché non so come mai l'autrice ha deciso praticamente di fare il secondo libro con protagonista la sorella appunto della protagonista del primo libro e il migliore amico del protagonista del primo libro e di riraccontare metà della trama del primo libro dal loro punto di vista solo che ormai il lettore se ha letto il primo libro non lo vuole rileggere da altri punti di vista tra l'altro non centrali alla trama perché la storia del primo libro non vedeva protagonisti questi qui e quindi praticamente il secondo libro parte a metà libro perché la prima metà del secondo libro è quasi un retelling del primo libro e non è molto interessante comunque è stata una scelta autoriale io vi dico sicuramente tutte e tre le sorelle sono personaggi tipici tutti e tre i libri sono carini però sicuramente il libro più carino è il primo in questo caso se vi piacciono le trame un pochino contorte e un pochino ironiche l'ultima serie di questa lista di sorelle che vi consiglio è la serie Princesses Princesses in hiding di Giuliana Gray allora in linea di massima io non adoro Giuliana Gray perché è un'autrice un tantino melodrammatica a volte però comunque scrive molto bene questa serie che io sappia è inedita in italiano ed è composta da tre libri How to tame your duke How to master your marquise e How to school your scondral scusate la pronuncia e la serie racconta la storia di tre sorelle principesse di un piccolo stato germanico e vittime di un misterioso complotto rimaste orfane di madre in tenera età e ora anche di padre e una di loro è rimasta pure vedova capite quando dico che Giuliana Gray tende a essere melodrammatica già questo preangolo le tre ragazze fuggono dal loro paese e si rifugiano in Inghilterra da uno zio il duca di Olimpia fatto vuole che il duca di Olimpia è un uomo politicamente coinvolto nel suo paese quindi è una spia che coordina altre spie ma non è esattamente chiaro chi siano i buoni chi siano i cattivi e chi sia dietro agli attentati alla vita delle tre ragazze così il duca decide di nascondere le ragazze travestite da uomini presso degli uomini importanti ignari della loro identità che però spera finiranno per interessarsi a loro e proteggerle ho voluto mettere questa serie in questa lista proprio perché comunque qualsiasi cosa ne pensi io è sicuramente una serie che parla di sorelle che non assomiglia ad altre serie proprio da un preambolo diverso parla di tre principesse tra l'altro di uno stato straniero quindi anche questo la pone proprio da un altro lato rispetto alle classiche serie di sorelle però è logico che il il punto di partenza della serie a me sembra veramente totalmente stupido inverosimile cioè questo zio per proteggere le nipoti invece di tenerle vicine le fa travestire da uomo che già prende tre ragazze belle alte formose perché sono descritte così e farle passare per uomini non è proprio che funzionerà tantissimo anche perché non è che loro sanno comportarsi come uomini con l'educazione che hanno avuto in più le fa ospitare in case di uomini scapoli importanti che non sanno chi sono e però lui spera che questi uomini capiscano che sono donne si innamorino di loro e quindi le proteggano da un nemico che non si sa chi è non è più facile che questi uomini magari si approfittino delle sue nipoti e basta no così o che pensino male delle sue nipoti visto che queste qui se le ritrovano in casa sotto mentite spoglie no va bene insomma capirete che queste tram il pretesto l'inizio di questi libri io lo trovo un pochino poco plausibile e questo piano e bello è che questo piano strampalato del duca funziona in ogni libro chi ospita sta ragazza sta principessa si innamora di lei con trame diverse perché i tre libri sono diversi tra loro ma poco plausibili tutti e tre però che qualsiasi cosa ne pensi io soggettivamente l'ho voluta segnalare questa serie per il fatto appunto che comunque si pone su veramente un piano diverso cioè è innovativa dal punto di vista della trama e della scelta delle protagoniste femminili poi che sia innovativa con qualcosa che non mi piace è un altro conto però nulla toglie che sia innovativa e quindi volevo segnalarvelo qua si chiude la lista delle serie di Roma storici con protagoniste delle sorelle mi sono molto limitata perché vi ripeto ne esistono veramente veramente tante soprattutto se uno allarga la ricerca a sorelle con qualche fratello cioè veramente le liste sarebbero infinite questa è stata la mia scelta e soprattutto le autrici Jane Feather Angressi ve le consiglio veramente veramente caldamente e le loro serie che ho citato secondo me sono veramente da leggere spero questo video vi sia piaciuto vi auguro come sempre buona lettura e se volete cliccate mi piace qui sotto e iscrivetevi al mio canale e magari anche al mio blog su Tumblr per non perdere i miei prossimi video e i miei prossimi post grazie a tutti